E' sempre comunque di squadra, sono contenta di essere riuscita a trascinare un attimo la squadra in qualche momento di difficoltà perché ne abbiamo avuti tanti in questa partita. Brave loro perché loro secondo me giocano una buonissima pallavolo. A un certo punto non riuscivamo più a... avevamo preso un po' di fiducia, troppa fiducia e noi invece dovevamo riprendere un attimo il controllo della partita. Però meno male, adesso è strano perdere un set, però non è così. Dobbiamo comunque essere contente sempre.